Buonasera a tutti, buonasera. Allora mi sento di fare questo video per dare qualche strumento utile in questa situazione, in questo momento di difficoltà. Probabilmente un po' tutti siamo a casa, anzi dobbiamo rimanere a casa per la nostra salvaguardia e per la salvaguardia comunque dei nostri cari e delle persone comunque che ci sono attorno e quindi allora come affrontare questo periodo che comunque sia è un po' di difficoltà. Allora innanzitutto ho dato il titolo a questo video allora dell'attenzione. Cosa significa dirigere l'attenzione? Vedete la nostra mente, sapete tutti che io mi occupo di atteggiamento mentale e sostanzialmente di dinamiche relazionali che innanzitutto partono da noi stessi e poi ci fanno relazionare meglio con gli altri, ok? Quindi quanto conta portare attenzione? Cioè noi abbiamo dei meccanismi all'interno della nostra mente che deviano, ok? E che comunque ci distraggono, ci portano diciamo in una strada che non sempre ci è utile perché la mente dobbiamo sapere che va in risparmio energetico. Cioè sostanzialmente la mente molto spesso allora ci fa risparmiare energie e quindi ci tira un pochettino più indietro mandandoci dei messaggi magari anche non proprio così positivi, ok? Quindi magari un pochettino più negativi ma perché all'interno ripeto del dello schema mente, ok? Noi abbiamo dei meccanismi di omeostasi, di equilibrio dove andiamo in risparmio energetico, ok? E quindi cosa vuoi fare, dove vuoi andare, ma chi ti credi di essere, non fare quello, non fare l'altro, eccetera, eccetera, sono comunque sia tutti i meccanismi intrinsechi alla mente. Quindi cosa significa portare attenzione? Allora significa in qualche modo acquisire, ok? Delle tecniche per veramente portare il nostro pensiero dove noi vogliamo. Ed è tutto questione di focus perché noi soprattutto ad esempio nelle difficoltà, quindi nei momenti di difficoltà, è facile essere distratti da notizie negative, è facile comunque sia venire assorbiti da queste notizie negative e comunque sia tutte queste notizie ci creano degli stati d'animo, ok? E quindi la nostra mente va da uno stimolo all'altro, da una notizia all'altra e comunque immagazzina pensieri, immagazzina stati d'animo. Tutto questo poi ovviamente crea delle reazioni biochimiche all'interno del nostro corpo, no? E quindi quando noi abbiamo la mente distratta, noi allora rischiamo, ripeto, di andare da una parte o dall'altra senza veramente essere consapevoli di dove vogliamo portare noi l'attenzione, ok? Quindi portare l'attenzione innanzitutto è un atto consapevole, un atto di responsabilità dove la persona inizia a vedere i propri pensieri, ok? Le proprie dinamiche mentali, ci porta attenzione e portandoci attenzione poi dirige il suo pensiero verso una determinata situazione, verso una determinata linea. Vi faccio un esempio pratico, ok? Allora, all'interno del gruppo con cui sto lavorando con tante donne e stiamo facendo degli esercizi dove allora prima abbiamo direzionato il pensiero nel cercare tre cose belle e quindi ovviamente tutto il positivo, no? Quindi cerchiamo tre cose belle nonostante quello che stiamo vivendo, nonostante le difficoltà, nonostante i momenti, ok? Quindi scrivete tre cose belle che ogni giornata voi trovate nella vostra quotidianità e poi abbiamo fatto un lavoro ad esempio sui grazie, ok? Quindi abbiamo allenato la gratitudine e comunque sia sempre portando l'attenzione a ciò che si è, a ciò che si ha e a tutto ciò che ci circonda e che comunque molto spesso diamo per scontato e poi stiamo portando attenzione sul riconoscerci e quindi allora quali sono le caratteristiche, quali sono i punti di forza, quali sono le esperienze che ho superato, affrontato eccetera eccetera e quindi vedete che allora attraverso degli esercizi pratici di scrittura, ok? Le persone si allenano nel portare attenzione focalizzata dove vuole la persona, ovviamente sotto la mia indicazione, sotto la mia guida, ok? Quindi capite bene che l'importanza di acquisire queste tecniche che poi allora prendono un loro meccanismo automatico perché come tutto all'inizio ha bisogno di pratica ma poi diventa uno schema, diventa un'abitudine, ci porta a sbloccare degli schemi automatici vecchi della nostra mente che invece ci direzionavano da un'altra parte, ok? E tutto questo cosa succede? Succede che cambia la percezione della nostra vita, cambia la percezione della nostra realtà perché se prima mi focalizzavo e portavo attenzione al negativo e magari alla lamentela allora inizio a vedere che nonostante la difficoltà posso guardare altro, posso vedere altro perché c'è altro e la bellezza comunque sia allora può manifestarsi sotto ogni forma e sotto ogni aspetto, ok? Quindi perché portare attenzione? Perché anche in altri video probabilmente l'avevo già detto, anche il percorso di guarigione è comunque questione di focus, cioè è questione di attenzione. Se io mi focalizzo sul problema e sulla malattia rischio che quella malattia e quel problema invada completamente la mia vita e quindi prende veramente energia e si allarga a macchia d'olio, ok? Se io invece distraggo la mia mente e la porto da un'altra parte e quindi a considerare le relazioni che ho, a considerare le passioni, gli interessi, tutto ciò che posso fare, che cosa ho fatto di buono e che cosa posso migliorare, ok? Ecco che allora tutto, ripeto, anche l'esperienza della malattia prende un'altra forma. Quindi in questi giorni dove stiamo rallentando dei ritmi, dove comunque tutti siamo più a casa, ecco l'incipit che vi voglio dare è quello di portate attenzione consapevole, direzionata nelle cose che voi volete vedere, ok? E non magari attaccandosi per forza, ripeto, sempre alle notizie negative. Quindi sbloccare lo schema negativo, ok? Si può e basta un piccolo allenamento. Allora vedo che in linea, allora innanzitutto ringrazio tutti i presenti, Milena, Ivan, Fabrizio, Alba, Federica, Palma, Santina e poi non li vedo tutti e quindi fate comunque riferimento che saluto veramente tutti anche perché ho fatto questa diretta non avvisando e quindi ho detto la faccio spontaneamente senza, indipendentemente insomma che ci sia gente oppure no. E quindi ripeto, le donne che sono all'interno del gruppo ve lo potranno testimoniare, ok? Cioè quanto in un mese e mezzo, quasi due, ok? Quindi in un tempo veramente breve, ok? La persona ha già acquisito una visione, una percezione della propria vita in una completa differenza rispetto a prima, cioè c'è una visione completamente diversa, ok? E questo parliamoci chiaro, quanto vale? Quanto vale? Perché molto spesso le persone credono, ok, che non riescono, che non ce la fanno, che magari sono obiettivi troppo grandi, ma gli obiettivi grandi ricordiamoci sempre che vengono realizzati da facendo piccoli passi, cioè quindi è un passo alla volta che poi ci porterà a realizzare magari una trasformazione, quindi il raggiungimento di un obiettivo grande, ok? Cioè niente si costruisce dal niente, cioè tutto viene affrontato, ripeto, facendo quel piccolo passo e quindi oggi vi voglio dare questo spunto perché in questi giorni comunque sia di difficoltà portare l'attenzione consapevole nel bello, fra l'altro ci sono delle giornate di sole incredibile, quindi possiamo andare nella natura, possiamo comunque sia viverci anche il calore della nostra casa, con i nostri familiari, iniziare a goderci anche i nostri figli, capisco a volte il disagio anche di passare tutta la giornata con dei bambini in casa quando magari prima non si erano abituati, io per fortuna le ho grandi e le ho ben istruite a essere autonome e quindi per quanto sia voglio dire ho passato tutta quella fase ma ripeto ascoltando donne tutti i giorni capisco quanto anche questa situazione porti disagio su diversi livelli, ok? Quindi ognuno di noi ovviamente sta vivendo questa situazione a seconda anche della propria percezione, ok? Non esiste un'unica percezione ma ognuno ha la propria però quello che può fare ognuno di noi è quello di cambiare la percezione in meglio perché cambiare la percezione vuol dire cambiare la realtà, ci sono due piani di realtà, cioè c'è la realtà oggettiva che è comunque il dato di fatto concreto pratico di quello che è avvenuto e comunque sia c'è sempre anche una realtà soggettiva e allora la seconda quindi la realtà soggettiva è comunque quella più importante perché in base alla nostra percezione, a come viviamo le nostre esperienze, a come viviamo la nostra vita e a come ci comportiamo e a come reagiamo fa la qualità della nostra vita. Quindi non mi stancherò mai di dirlo veramente, anche le persone che sono malate io credo che in questo periodo dove magari sono più a casa, dove comunque sia provano del disagio maggiore perché magari sono immunodepressi, hanno fatto le terapie e quindi insomma mi rendo conto che c'è uno stato emotivo fragile, ok? Sappiate che allora se voi vi prendete cura di voi stessi e incominciate a comprendere l'importanza dei meccanismi mentali potete fare tanto, potete fare tanto perché rimanere sempre con gli stessi schemi a livello mentale vuol dire continuare a mandare al corpo gli stessi messaggi e quindi se è arrivata la malattia, la malattia non è mai un caso ma è un risultato e quindi vuol dire che probabilmente c'erano stati dei meccanismi, delle azioni e delle abitudini che forse non erano funzionali. Nessuno ha colpa, ok? Parliamoci chiaro, nessuno ha colpa di quando arriva la malattia, ma capite bene che ne diventiamo responsabili se non facciamo niente, cioè ne diventiamo responsabili se continuiamo a fare sempre le cose che abbiamo fatto prima. Questo era un po' l'incipit e poi aspetto magari i vostri commenti, mi auguro insomma che questi consigli comunque vi siano utili, che questa diretta lampo comunque sia insomma abbia dato degli spunti interessanti e quindi se qualcuno mi vuole fare qualche domanda io rimango qui a disposizione. Condividete il video se credete che possa essere utile, invitate magari le persone ad entrare nel gruppo che comunque riaprirò, cioè ho riaperto comunque in questi giorni, perché credo che ci sia un gran bisogno nelle persone di creare, ripeto, consapevolezza, di creare condivisione, cioè questa situazione non la possiamo risolvere da soli, cioè questa situazione ci sta insegnando quanto in realtà tutti siamo parte del tutto, cioè tutti in realtà siamo all'unisono in connessione con gli altri e quindi forse dobbiamo anche smettere un po' di pensare sempre al nostro orticello e pensarci più parte, ripeto, di un universo che non ha confini, non ha stati, non ha limiti, cioè i limiti li possiamo mettere, ok magari adesso con i decreti che sono usciti, eccetera, ma comunque sia a livello energetico, se noi siamo vicino e siamo insieme possiamo fare tanto. Ecco nel gruppo delle donne che ci siamo fra l'altro sentite anche ieri sera, abbiamo fatto come sempre la meditazione è venuto fuori quanto essere all'interno di questo gruppo è stato fondamentale per la loro gestione di questo momento, perché se non avessero avuto quest'ancora probabilmente la loro testa e quindi anche la loro percezione di tutta la situazione sarebbe andata completamente in malora. Ecco io di questo da una parte ne sono sempre anche un pochettino triste, ma perché? Perché c'è in me comunque sia la voglia di aiutare tante persone e forse non è facile far comprendere alle persone quanto, ok, ripeto, basta poco, basta avere una guida, basta avere colui o colei, ovviamente colei che vi dà l'indirizzo giusto, ok, e con un piccolo passo potete mettere in atto veramente dei miracoli. Ve lo garantisco perché lo vivo tutti i giorni con le donne che comunque seguo. Allora, intanto saluto tutti gli altri che sono arrivati, allora Franca, Maurizio, Claudio, Roberta. Allora Elena mi dice che libri consigli su questi argomenti, mente e corpo, allora innanzitutto il mio, non posso essere non di parte. Cancro, la linea di partenza per la tua rinascita, è un libro che non parla della malattia, ma parla dei 23 punti di forza dell'essere umano. Come allenarli, quali sono, ci sono esercizi pratici anche lì proprio per mettere subito in atto le nostre qualità interiori, ok, quindi lungimiranza, il coraggio, la creatività, la leadership, la spiritualità, eccetera, eccetera, perché sono 23, ok, e quindi questo ovviamente non posso non consigliarlo, anzi girate voce perché è stato utile a tantissime persone e lo sarà sicuramente Elena anche a te se lo leggi. Poi altri libri, allora guarda, io ho una libreria enorme, mi sento di consigliare, non lo so, di Bruce Lipton, la biologia delle credenze, ci insegna sostanzialmente quanto le nostre convinzioni hanno delle reazioni biochimiche all'interno del nostro corpo e che quindi di conseguenza vanno ad installare, ok, ad installare anche tutti dei meccanismi, ok. Poi, allora, altri libri quali possono essere? Allora, interessante, interessante, ve ne potrei dare mille, ma, 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 allora, uno è Psicotrappole del Professor Nardone, io ho fatto con lui il Master di Coaching Strategico, Problem Solving, Scienze delle Performance e della Comunicazione, e sono sette Psicotrappole comuni, ovviamente a tutti gli esseri umani, lì dentro ci rientriamo tutti, ok, è molto interessante perché apre molto gli occhi anche sui meccanismi della mente e quindi quello ve lo consiglio. Poi, allora, altri libri, vediamo, Pensare con il corpo, Pensare con il corpo, anche lì è interessante quanto mente e corpo hanno un'integrazione ovviamente sempre unita, sempre connessa, istante dopo istante, quindi non si esce dal nostro ciclo mente-corpo-spirito e ci dà una prospettiva diversa di quanto in realtà un messaggio diverso partito dal corpo viene recepito dalla mente e poi la mente elabora e si fa tutte le sue ragioni. Interessante anche quello. Poi ce ne sono tantissimi, ce ne sono veramente tantissimi. Iniziate, ripeto, magari anche da cose, fra virgolette, semplici. Allora, io il mio libro l'ho creato a immagini, a comunque, voglio dire, una scrittura molto molto semplice e l'ho fatto perché è ovviamente rivolto a persone che magari stavano vivendo la malattia. C'è bisogno di leggerezza, c'è bisogno di spunti utili, c'è bisogno di un'area di freschezza, ok? Ecco perché, come posso dire, dobbiamo tutti, tutti, per me non esiste il malato, per me la persona è molto di più e l'ho sempre detto, non finirò mai di dirlo. Cioè, noi siamo un insieme, ok? E la malattia è una delle esperienze difficili che può capitare nella vita, ok? In realtà, ognuno di noi può prendere veramente tante lezioni da tante batoste, fra virgolette, insomma, diverse che capitano nella vita. E quindi, cioè, tutti dobbiamo lavorare sul nostro atteggiamento mentale perché abbiamo delle risorse enormi, enormi, abbiamo delle potenzialità passesche di cui non ce ne rendiamo conto, ok? E quindi accrescere questa consapevolezza, lavorare con la testa vuol dire attivare il processo di guarigione su tutti i livelli, su tutti i livelli, perché, ripeto, ci sono tantissimi malati invisibili e non dichiarati. Quindi non abbiamo bisogno di una diagnosi, ricordatevi sempre, per essere definiti in una maniera oppure no. Quelle sono, diciamo, etichette che comunque sia il mondo convenzionale ha messo e giustamente mette per avere delle categorie, ok? Per poi ovviamente fare statistiche e via dicendo. Ma comunque sia ognuno, ripeto, ha i propri meccanismi funzionali o non funzionali, ok? Allora io quando lavoro con le persone e faccio comunque sia un problem solving e quindi si va a capire qual è la priorità in primis da gestire per riportare subito un equilibrio psicomotivo, ok? Cosa succede? Si va a comprendere praticamente quali sono i meccanismi funzionali e quelli non funzionali. Che cosa porta l'efficacia nella vita della persona? Molto spesso per riequilibrare la vita della persona, ok? Quindi la ruota della vita, non so se l'avete mai vista, eventualmente anche qui vi posso mandare la ruota della vita che faccio fare sempre anche ai miei corsi come esercizio pratico perché fa veramente una radiografia della situazione, del momento che sta vivendo la persona e in quali aree della vita è più o meno soddisfatta. Vedendo le aree, ok, colorate, quindi come la bicicletta praticamente su cui noi stiamo pedalando, la persona mette subito in chiarezza qual è l'area dove deve intervenire per migliorare. A volte basta lavorare su un'area, ovviamente, perché funziona tutto come i vasi comunicanti per riequilibrare comunque e riportare subito benessere, ok? E quindi, ripeto, nella ruota della vita, insomma, le aree sono veramente tantissime. Anche se, allora, anche le relazioni comunque sia, sono sempre una parte molto molto fondamentale, ok? Noi partiamo sempre dal presupposto che siamo esseri umani, siamo esseri sociali, noi prima abbiamo la relazione con noi stessi, ok? Poi abbiamo la relazione con gli altri e poi abbiamo la relazione con il mondo esterno. In base a come noi ci relazioniamo con noi stessi e qui torno al discorso dell'attenzione, del focus, quanto sono consapevole del mio dialogo interiore, ok? E quanto è efficace e quanto è produttivo il mio dialogo interiore, ecco che allora sarò efficace nelle comunicazioni con one to one e quindi con l'altra persona piuttosto che con il mondo esterno. Potrei stare qui veramente ore e ore a farvi, insomma, tantissima formazione, ma mi auguro poi piano piano, prima o poi, insomma, comunque di vedervi in aula. Allora, rinnovo l'invito per chi vorrà comunque interessarsi al discorso del gruppo per focalizzare, ripeto, l'attenzione, soprattutto in un momento di difficoltà come questo. Faccio anche delle meditazioni e ho creato dei pacchetti comunque di meditazione perché anche la meditazione è un mezzo per ampliare il nostro stato di coscienza e riportare l'attenzione dentro di noi, riportare comunque l'ascolto, focalizzare la mente. Ormai la meditazione è stata veramente approvata da più di tremila studi scientifici, ok? E quindi va a ridurre l'ansia, va a ridurre lo stress, aumenta le difese immunitarie perché comunque sia, aumenta l'equilibrio psicomotivo, abbassa la frequenza cardiaca, genera gli ormoni del benessere, porta concentrazione, porta focus mentale, cioè quindi la meditazione anche è una pratica da veramente utilizzare. E a volte anche se non siamo abituati a meditare, basta veramente mettersi le cuffie, ok? Prendersi dieci minuti a occhi chiusi, portando l'attenzione al respiro. Io infatti faccio proprio delle meditazioni che sono con tecniche di visualizzazione e quindi ci sono delle parole costruite apposta, ok? Per portare la mente della persona che mi sta ascoltando in un processo e in uno stato proprio, ripeto, di rilassamento, ma indotto da un certo tipo di parole. E quindi c'è proprio una tecnica dietro, insomma, che comunque sia o messo a punto dopo anni. E quindi, insomma, tutti strumenti, tutti strumenti utili. Allora, quindi l'invito che vi voglio fare a tutti veramente è quello di condividiamo bellezza, condividiamo cose utili, condividiamo formazione, utilizziamo questo tempo per accrescere la nostra conoscenza, per ampliare il nostro ascolto, per nutrire se stessi. Perché io credo che in una fase così delicata e di un impatto comunque sia così importante che sta avendo a livello societario ci siano veramente delle lezioni importanti da apprendere. Una di queste è proprio quella di riportare attenzione a tutto il nostro interno, cioè a tutta la nostra interiorità, a tutto ciò che molto spesso non diamo ascolto per il troppo riempirci di attività quotidiane, per il troppo correre dietro a non so che cosa, ok? E quindi ritorniamo calmi, ritorniamo comunque sia in una pace, ritorniamo ad un ascolto. Ecco, questo è il messaggio fra i tanti che vi voglio lasciare. Quindi condividete se credete vi sia stato utile, io vi auguro veramente di passare queste giornate nel migliore modo possibile, curatevi veramente e prendetevi a cuore, ok? E a tutte le donne, Barbara compresa, visto che mi segui da un po', ti aspetto nel gruppo dove faremo tutti gli esercizi per il focus e l'attenzione mentale. Io vi auguro buona serata, grazie per esserci stati, saluto anche Mate che praticamente è arrivata un po' dopo, Barbara anche che è arrivata, Miranda, grazie a tutti, Franca e a presto, un bacione a tutti, ciao, buona serata, ciao ciao!